Io ero uno che viveva gli eccessi, gli estremi, io ero un motociclista, un bikers, io mangiavo sulla moto, bevevo sulla moto, dormivo sulla moto, poi mi sono accorto che si poteva anche accendere, dopo. I miei fini di settimana erano fiumi di birra e poi la notte nei campi a fare l'amore, una volta nei campi con le bionde, una volta nei campi con le brune, una volta nei campi con le rosse, adesso nei campi coi finocchi, sì con i finocchi perché mia moglie è vegetariana e lo è anche nell'intimità, vi dico una cosa, in confidenza, è vegetariana pure quando facciamo un sesso, quando facciamo all'amore, lei continua a dire no, 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 determinata, pur di non dire che un pezzettino di carne gli è da piacere. L'altro giorno ero fuori casa e lei mi chiama, viviamo in un'eco casa. Lo so, molti di voi non conoscono le tematiche, ma l'eco casa che cos'è? È una casa costruita con materiali poveri, naturali, argilla, paglia, sughero, praticamente nakapan. Se la costruisci in Africa, se la costruisci in Italia l'architetto ti fa credere che è una casa in bioarchitettura, direte voi materiali poveri, le hai pagata poco. Cosa? 500.000 euro! Io vivo come un Masai, ma pago come un armatore a Monte Carlo. Questa è la mia vita. Anche mio figlio è cambiato. Mio figlio finché eravamo in città, utilizzava termini tipo iPad, interattivo, papà vado a fare running, download. Adesso esce fuori di casa e dice papà, sì, ha cacata la gallina, sono soddisfazione per un padre. Sono soddisfazione per un padre. Che poi la vita biologica prevede anche dei sacrifici perché io utilizzo, grazie a mia moglie, un'alimentazione biologica sana, controllata, praticamente pagam, fa la fama. No, no, non ridete perché adesso vi faccio diventare parte di quella che è l'alimentazione di ogni giorno. Colazione, succo, ma mica di frutta normale, succo di bacche di gauche, 37 euro a bottiglia da mezzo litro. Quando l'ho comprato ho detto ma è succo di frutta o è Don Berignon? Mia moglie mi ha detto bevilo perché è una bevanda meravigliosa, è antitumorale, è contro il diabete, è blocchi radicali liberi, allora confronto all'acqua dell'urda è vetrillo, scusa. Pranzo? Per il pranzo mia moglie ha pensato a nine chili con tofu grigliato condito con succo di soia. So che molti di voi si staranno chiedendo che cos'è, pure io quando l'ho visto la prima volta. Ma voglio venirvi incontro, nine chili con tofu grigliato condito con succo di soia, che poi praticamente che cos'è? Zuppa di fagioli, con fagioli fusi, condito con succo di fagioli. Ecco perché poi i vegetariani si danno le arie. Ma non è finita qua, voi immaginate la fame, il succo di bacche di goju, il nine chili, finalmente arriva la sera e dice most mange perché eating fam. No, perché mia moglie viene e dice amore per la cena ho pensato per tenerci leggeri e dico sì, beh effettivamente non esageriamo. Ho pensato a una tisana, la tisana. Che poi la tisana che cos'è? Una via di mezzo tra il tè e il brodo vegetale fondamentalmente. Che cos'è? Mia moglie mi ha detto stasera beviamo la tisana dei monaci buddisti e vi dico la verità, funziona. Perché io l'ho bevuta e ho cominciato a meditare. mangiato. No, non ho mangiato. Direte voi è finita lì? No! Non è finita lì perché a quel punto cerco di andare a letto e mia moglie arriva, dice amore non dimenticare per aumentare il metabolismo durante la notte un bicchiere d'acqua con due gocce di limone, però affinché abbia effetto rigorosamente a stomaco vuoto. Ho detto sotto questo punto di vista poto stare tranquillo e così finalmente vado a letto, ma a differenza dei tanti uomini che vanno a letto e sognano la ferilli, la cucinotta, io mi sogno la parodi. Lei prepara, io assaggio e il regista che dice stop! La rifacciamo! Bravissimo! Grazie! Tommy Terrafino! Grazie! No, troppo forte! Mi ci rivedo, bravissimo! Abbiamo capito qualcosa di più, devo dire che io bevo tizane, faccio tutta quella roba lì mi rappresenta a pieno, quindi mi fa piacere, ho anche una comicità un po' diversa. Ricordati che le mogli vi farò, sono sempre nel giusto, vero? A me anche a me fa bene un po' di bio. A te il bio, altro che il bio. Comunque volevo dire una cosa che visto che faccio il comico e mi sono dovuto adattare con quella che è la vita che mia moglie ha scelto di intraprendere, mi sono organizzato, adesso sono un comico biocompatibile e sinceramente mi fa anche comodo così se una battuta fa cagare la posso usare per la congimazione. Premio Sganasau 2014, Tommy Terrafino! Grazie! Grazie!